Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che in inquietante riesco a trovare sul web. Se questa tipologia di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Per il caso di oggi ci troviamo in California, più precisamente nella Bay Area, in una città di circa 100.000 abitanti chiamata Vallejo. Situata poco più a nord di San Francisco, Vallejo è secondo una recente lista di Forbes tra i posti migliori in cui vivere in California. E stando alle fotografie che ho trovato su internet direi come dargli torto. È una città molto viva, si affaccia sulla Baia di San Pablo e ha degli scenari davvero meravigliosi. Qui nel 2015 viveva un ragazzo di 30 anni di nome Aaron Quinn, che era il classico ragazzo americano nell'immaginario collettivo italiano direi. Era un ex quarterback di successo nella squadra di football del liceo, era poi andato all'università, era diventato un fisioterapista, aveva aperto uno studio, faceva una discreta quantità di soldi. Era stato fidanzato per moltissimi anni con la sua fidanzata del liceo, erano stati fidanzati per tutta l'università. Si dovevano in realtà sposare, poi a pochi mesi dal matrimonio Aaron aveva scoperto che si era preso un po' di corna, quindi insomma aveva deciso di non sposarsi più e rompere il fidanzamento ufficiale. Nonostante tutto si ributtò sul lavoro, riuscì di fatto un po' a dimenticare questa sua ex fidanzata. Acquistò una bellissima villetta in un'area tra l'altro di Vallejo abbastanza esclusiva, non un villone da mega ricco, però come vi dicevo era una persona che faceva sicuramente una discreta quantità di soldi. Sul posto di lavoro aveva conosciuto un'altra fisioterapista, una ragazza di un anno più piccola di lui, di nome Denise Haskins. Tra i due era stato amore a prima vista, nel secondo in cui si erano incontrati la prima volta, quindi insomma si erano scambiati i numeri, erano usciti un po' di volte e subito dopo si erano messi insieme. Non convivevano ancora ufficialmente, però diciamo che sicuramente Denise passava la maggior parte delle notti, insomma in settimana, a casa di Aaron. Erano a detta di molti, compresi i rispettivi genitori, una coppia perfetta, avevano tanti interessi in comune, facevano lo stesso lavoro, insomma sembravano effettivamente felici. E come in diversi altri casi di cui vi ho parlato, sembrava davvero che stesse andando tutto per il meglio e non potesse succedere niente di brutto. Prima di continuare con il caso, piccolo disclaimer, è un caso particolare. Aspettate a giudicare perché ne succederanno davvero di ogni, cose che sembreranno andare in una direzione, sarà totalmente la cosa opposta. È un caso che, cioè io personalmente nel momento in cui mi sono informata, sono rimasta, cioè ho dovuto riorganizzare le informazioni, perché fino a un certo punto pensavo che si andasse a parare in un punto, poi mi è stata sconvolta tutta la comprensione del caso. Quindi non fate come me, cercate di non farvi un'idea precisa fino alla fine del caso, perché è un macello. Spostiamoci ora al 23 marzo del 2015, era un lunedì fra tanti, una decina di minuti prima delle due di pomeriggio. Arriva una chiamata alla polizia di Vallejo, dall'altra parte del telefono c'è un uomo, un ragazzo, che si identifica come Aaron Quinn. L'uomo è abbastanza confuso, cioè la polizia se ne rende conto subito dalla chiamata, dal modo in cui stava parlando. Dice che qualcuno aveva fatto irruzione in casa sua e avevano rapito la sua fidanzata Denise. Insomma, dall'indirizzo alla polizia, in modo che possa arrivare qualcuno, la polizia arrivò, di nuovo constatarono il fatto che questo ragazzo doveva aver assunto qualcosa, sembrava molto confuso, aveva anche difficoltà comunque a parlare, sbiascicava un pochino. Spiegò alla polizia che la sera prima la sua fidanzata Denise era andata da lui, avevano preso una pizza, guardato un film, dopodiché erano andati a dormire intorno al luna. Dopo un paio di ore erano stati svegliati da una luce improvvisa nella loro camera da letto, qualcuno aveva acceso, insomma, la luce. Un uomo totalmente vestito di nero, con un passamontagna, gli aveva urlato di sdraiarsi a faccia in giù, sul pavimento. Dopodiché li aveva bendati, imbavagliati, legati e aveva messo addosso a tutti e due delle cuffie che dal momento in cui vennero messe sulla testa dei due iniziarono a riprodurre un messaggio pre-registrato e in questo messaggio c'era la voce di un uomo che diceva praticamente che avrebbero dovuto assumere una droga che gli avrebbero dato e che nel caso in cui avessero deciso di non assumerla, gliela avrebbero comunque iniettata a forza. Quindi il suggerimento di questa voce registrata era non fate storie, bevete quello che vi daranno. Da qui passeranno un po' di minuti durante i quali Aaron non sentì, ne vide niente appunto per la benda e le cuffie alle orecchie. Dopo un po' qualcuno lo prese, lo portò in cucina dove gli toglierà la benda e le cuffie. Davanti a lui c'era una persona appunto sempre vestita di nero con un passamontagna quindi Aaron non fu tanto in grado di vedere i connotati di questa persona, di riconoscere questa persona. L'aggressore gli chiederà in primo luogo i dati del computer, cioè per accedere al suo computer e Aaron glieli darà perché a questo punto pensava ancora fosse semplicemente una rapina quindi voleva assicurarsi di fare tutto quello che gli veniva richiesto per fargli andare via il più in fretta possibile. Prese poi uno scotch rosso, fece una riga davanti praticamente all'ingresso della cucina dopodiché prese da un borsone una videocamera e insomma da dove Aaron non riuscì a vederlo ma capì che la stava in qualche modo fissando al soffitto. Rientrò poi in cucina e gli disse che sapeva perfettamente chi fosse, chi fossero i suoi genitori, i suoi parenti e dove vivessero e che se voleva rivedere tutte quelle persone vive non doveva uscire da quella cucina per le successive sei ore. Dopodiché esattamente come gli aveva già preannunciato la voce insomma registrata che aveva sentito, gli porse una bottiglietta. Aaron aveva già deciso quello che avrebbe fatto ovvero beve senza farselo dire due volte il contenuto di quella fialetta. Dopo pochissimi secondi a causa di quella sorta di droga che aveva assunto iniziò a perdere i sensi e svenne. Per le ore successive Aaron continuerà un po' a riprendersi un po' a ricadere nel sonno per colpa appunto di quella droga che aveva assunto fino a poco prima delle due quando si era svegliato aveva constatato che da casa sua ovviamente non c'era Denise, mancasse il suo computer e anche le chiavi dell'auto e la sua macchina. A questo punto ovviamente aveva capito che fossero passate più di sei ore da quando l'aggressore gli aveva detto che non sarebbe potuto uscire di lì per le successive sei ore. Di conseguenza uscì dalla stanza, prese il telefono e contattò la polizia. Poco dopo aver chiamato la polizia nel mentre la polizia appunto stava raggiungendo Aaron a casa sua gli arrivarono sul cellulare due email ed erano due email strane perché erano state inviate dal suo stesso account. Cioè non so se l'avete mai fatto io un sacco di volte per mandarmi cose cioè mittente la mail di Aaron, ricevente la mail di Aaron. All'interno di questa mail c'era la richiesta di due pagamenti per un totale di 15.000 dollari in cambio ovviamente della vita di Denise. La prima cosa che fece la polizia chiaramente fu analizzare la scena del crimine, la casa di Aaron ed effettivamente trovarono tutte cose che combaciarono con la storia che aveva appena raccontato. Trovarono dello scotch rosso in cucina, trovarono una telecamera montata, cioè montata, appiccicata con dell'altro nastro adesivo al soffitto, trovarono la boccetta vuota all'interno del quale c'era la droga che aveva bevuto, trovarono delle corde con cui era stato legato Aaron. Insomma combaciava tutto. Però perché Aaron e Denise? Come vi dicevo Aaron era sì una persona che faceva un po' di soldi, ma di certo non era milionario, comunque una persona alla quale puoi chiedere chissà che riscatto. Infatti il riscatto era anche abbastanza poco, non so se avete mai visto altri casi dove chiedono il riscatto, però solitamente chiedono molto di più, cioè 15.000 dollari non sono pochi, ma non sono tanti per un riscatto. L'altra domanda che si fece alla polizia è perché dei criminali così organizzati, perché oggettivamente era stata una cosa chirurgica, organizzatissima, non avevano fatto neanche tanto rumore, cioè i vicini non si erano accorti di niente, perché dei criminali così organizzati avrebbero dovuto prendere di mira Aaron e Denise, due persone assolutamente comuni, normali, non erano politici, non erano persone famose, non erano figli di politici o persone magari di un certo livello, importanti per qualche motivo. E la polizia e i detective passarono le prime ore a cercare di capire chi l'avesse fatto, ma proprio le prime ore poche, dopodiché iniziarono a convincersi del fatto che Aaron si fosse inventato tutto. Ed effettivamente, per una volta non do contro la polizia e i detective quando succedono cose del genere, perché effettivamente è una storia talmente assurda che qualche domandina me la farei anche io, probabilmente mi trovassi nei panni della polizia e dei detective. In più, c'erano effettivamente un paio di cose che non tornavano tanto. In primo luogo, al piano superiore della casa, al secondo piano, c'era odore di pulito, cosa che poteva far pensare effettivamente che magari qualcuno avesse utilizzato dei prodotti chimici per pulire. Ovviamente la polizia a questo punto stava pensando all'omicidio di Denise. Sul materasso c'era una piccola macchia di sangue, di quelle dimensioni che potrebbe essere una, non so, una fuoriuscita di sangue dal naso, come potrebbe essere indicativo di qualcos'altro. Altra cosa, Aaron aveva chiamato la polizia ore dopo la presunta aggressione, che in altri casi può comunque far pensare a un lasso di tempo dove il colpevole ha cercato di aggiustare quello che aveva fatto, trovarsi un'avversione, pulire la casa, appunto, sbarazzarsi del corpo, eccetera. In più, come in realtà fu lo stesso Aaron a dire alla polizia, mancava la sua macchina. Quindi qual è l'ipotesi che si costruì la polizia a questo punto? Aaron aveva ucciso Denise, magari non era stato qualcosa di premeditato, magari, non so, avevano litigato e il litigio era finito in una collutazione. Aveva ripulito tutta la casa, aveva messo il corpo nella macchina, era andato da qualche parte a nascondere il corpo, aveva abbandonato l'auto perché chiaramente sopra c'erano tracce di Denise, magari di sangue, prove che lo avrebbero incriminato. Dopodiché era ritornato a casa e aveva inscenato il tutto, si era creato tutta questa storiella del rapimento per sviare le indagini, per far sembrare che non fosse lui il responsabile. E come vi avevo detto già in un paio di altri casi, il problema di quando la polizia e i detective si fanno un certo tipo di ipotesi è che se la prendono troppo per vera, cioè non ci sono effettivamente troppe prove a favore della mia ipotesi, però la prendo per assolutamente vera, da quel momento in poi indagano per confermare quell'ipotesi. Ed è un macello, cioè per molti casi, anche contrattato e impastato, è stato un macello e purtroppo anche nel caso di oggi. Una cosa che fecero, che a prescindere da tutto, a mio parere fu una cosa poco professionale, perché anche se sei convinto di una cosa, boh, si sa mai, spensero il telefono, o meglio, misero il telefono di Aaron in modalità aereo e lo sequestrarono, glielo tennero lontano. Cosa che posso capire che a questo punto loro erano convinti, Aaron, cioè che non ci fosse di fatto nessun tipo di rapimento, però metti che ovviamente avrebbero magari tentato di contattare Aaron sul suo telefono e con la modalità aereo ovviamente non arrivano le chiamate e neanche i messaggi. Fatto sta che presero in custodia Aaron, lo portarono in centrale e lo interrogarono. E dall'interrogatorio, che durerà ora, io adesso ve ne faccio vedere ovviamente solo uno spezzettone, venne fuori un'altra cosa che non giocò proprio a favore di Aaron, perché Aaron raccontò alla polizia che la sera prima lui e Denise avevano litigato. E avevano litigato perché lui, quel periodo, era rientrato in contatto con la sua ex fidanzata, vi ricordate quella del quasi matrimonio. Non lo aveva detto a Denise, Denise aveva guardato il suo cellulare e aveva visto questi messaggi e nei messaggi lui diceva una roba del tipo che le mancava, che era stato l'amore della sua vita, cose del genere, cosa che sicuramente a un'attuale fidanzata non fa tanto piacere, vederlo scrivere a un'altra donna. Quindi insomma c'era stato un litigio, cosa che andò solamente a confermare ancora di più quell'ipotesi che si era fatta alla polizia. La polizia era così convinta della colpevolezza di Aaron che a un certo punto fecero addirittura venire in centrale il fratello di Aaron che tra l'altro era un agente dell'FBI e gli dissero guarda entra nella strada di interrogatorio, boh confortalo, insomma comportati da fratello poi cerca di farlo confessare. E nonostante tutto, nonostante c'è anche questo fratello poverino fece effettivamente quello che gli disse la polizia, Aaron non confessò, continuò ad attenersi alla versione del rapimento. Quindi non avendo di fatto niente contro di lui, niente di concreto contro di lui, passate le ore che un poliziotto insomma può tenere in custodia senza prove una persona, lo lasciarono andare. Nel frattempo le ricerche di Denise erano in pieno atto anche se a questo punto in realtà la polizia stava cercando un cadavere convinta ancora della teoria che Aaron avesse ucciso la sua fidanzata. Erano stati distribuiti i volantini, c'erano centinaia tra volontari e personale della polizia che stavano setacciando tutte le zone circostanti insomma alla casa di Aaron fino a quando non accade una cosa strana, cioè strana, sì, particolare diciamo così. Dalla mail, dall'account mail e dal computer di Aaron, che vi ricordo ancora non si sa dove fosse perché evidentemente era stato preso dai presunti rapitori, viene inviata una mail, una mail che viene inviata a un giornalista di una testata giornalistica insomma abbastanza conosciuta lì. In questa mail non c'era niente di testo, l'oggetto era Denise Haskins, nome e cognome della ragazza che era stata rapita e l'unica cosa che c'era all'interno di questa mail era in allegato una registrazione vocale, che adesso sentiremo. Quindi Denise era ancora viva e lo sappiamo e lo capirono ovviamente con certezza per il fatto che parlò di quell'incidente aereo che accade il 24 mattina in Francia e l'era stata rapita il 23 mattina, quindi 24 ore dopo il suo rapimento. Tra l'altro incidente aereo sulle Alpi vicinissimo a noi, ancora più vicino a me che sono di Torino, ovviamente sotto le Alpi. Io me lo ricordo benissimo come incidente, immagino che anche voi ve lo ricordiate nel 2015. Fatto sta che con questa rivelazione, con questo audio, l'ipotesi della polizia crollò di botto. Aaron non aveva per forza ucciso Denise perché era ancora viva. E come vi dicevo prima, questi poliziotti avevano sequestrato il telefono di Aaron, l'avevano messo in modalità aereo e se ne erano dimenticati. Quindi a questo punto cosa fecero? Impanicati un attimo, andarono a riprendere quel telefono, tolsero la modalità aereo e il telefono di Aaron fu bombardato da centinaia di chiamate perse da numeri sconosciuti e messaggi con richiesta per il riscatto, indicazioni di dove consegnare i soldi da parte appunto dei presunti rapitori. Avevano cercato di contattarlo per tutto questo tempo e a questo punto, come vi dicevo, sono passate più di 24 ore dal rapimento e la polizia aveva praticamente bloccato l'unica linea diciamo di comunicazione che avrebbero avuto con i rapitori. Ricontattarono, rifecero venire Aaron in centrale e gli fecero scrivere un messaggio di risposta ai rapitori per cercare di fare effettivamente questo scambio di soldi. La paura della polizia a questo punto era che la pazienza dei rapitori fosse decisamente al limite. Magari impanicati dal fatto che non li stavano rispondendo, avrebbero ucciso Denise, era una situazione potenzialmente molto grave e soprattutto tutta sulle spalle a livello di responsabilità della polizia di Vallejo. Aaron inviò un messaggio in risposta a questi rapitori, non ricevette nessuna risposta. Fino al giorno dopo, il 25 marzo, quando accadde una cosa ancora più assurda in questo caso, Denise chiamò dal telefono del giardiniere di suo padre la polizia per dire di essere viva. Era stata rilasciata dai suoi rapitori a Long Beach, poco più a sud di Los Angeles. Parliamo di una distanza di circa sei ore in macchina da dove era stata rapita, quindi non proprio vicinissima. E tra l'altro era stata rilasciata, tipo a tre isolati di distanza, dalla casa dei suoi genitori. Era arrivata lì, aveva cercato di entrare in casa, non c'erano i suoi genitori, ma c'era il giardiniere, quindi gli aveva chiesto il telefono per contattare la polizia. Raccontò alla polizia di essere stata legata, imbavagliata e bendata per tutto il tempo ad un letto, quindi non si era mai resa esattamente conto di dove fosse, se non che era all'interno di una stanza. Disse di essere abbastanza sicura di essere stata tenuta in ostaggio da quattro rapitori diversi, questo perché aveva riconosciuto delle voci. L'avevano sempre trattata benissimo, le avevano dato cibo e acqua a richiesta, le avevano fatto usare il bagno ogni volta che aveva bisogno, le avevano fatto addirittura fare una doccia, insomma non era stato un rapimento molto sofferente dal punto di vista fisico almeno. Altra cosa era vestita, aveva i suoi vestiti e con sé la sua borsa, con gli effetti personali, il suo portafoglio eccetera, cosa che tra parentesi non si erano resi conto mancasse da casa di Aaron, la polizia intendo, perché ovviamente avevano quell'ipotesi, ok Denise è morta, Aaron l'ha uccisa e ha nascosto il suo cadavere, quindi se ne sarebbero anche resi conto prima che mancavano appunto i suoi effetti personali, se avessero fatto le indagini con una logica. Questa cosa, cioè il fatto che era vestita con una borsa, un poliziotto con cui parlo la notò, quindi le chiese come era possibile che era stata rapita in mezzo a una notte, presumibilmente in pigiama, come era possibile che avesse i suoi vestiti e la sua borsa con sé, e lei disse che erano stati proprio i suoi rapitori, ad aver preso dei vestiti per lei e la sua borsa, il giorno in cui era stata rapita. A questo punto Denise fece una cosa strana, tra virgolette, che secondo me fece perché stava iniziando ad avvertire i toni un po' accusatori del poliziotto del detective che stava parlando con lei, ovvero chiese di poter parlare con un avvocato prima di prendere parte a un vero e proprio interrogatorio, cosa che ovviamente da un lato è diritto sacrosanto poter parlare con un avvocato prima di un interrogatorio o per farsi supportare durante un interrogatorio. Dall'altro lato, la polizia prese questa affermazione come un indizio di colpevolezza. Era anche estremamente calma, non sembrava una persona che era appena stata tenuta in ostaggio per due giorni. È vero che, come ha detto lei, l'avevano trattata bene, ma era stata comunque tenuta in ostaggio per due giorni da delle persone, doveva essere stata in qualche modo un'esperienza traumatica per lei e per questo motivo principalmente e quasi esclusivamente, la polizia iniziò a tirar fuori una seconda ipotesi, una seconda ipotesi che faceva molto comodo alla polizia perché andava a combaciare da un lato con la prima che avevano avuto con Aaron e di conseguenza aiutava la reputazione della polizia che fino a quel punto non si stava facendo una figura proprio fantastica. Inizierono a credere che i due fidanzati si fossero messi d'accordo, cioè che questo rapimento effettivamente non fosse mai avvenuto e che avessero inscenato il tutto per un motivo che non riuscirono a trovare, ovviamente, in primo luogo perché i 15.000 dollari che vennero chiesti vennero chiesti ad Aaron, quindi li avrebbe pagati lui, ci avrebbe rimesso lui economicamente, non era stato qualcosa per un'assicurazione o per chiedere soldi, non lo so, ai loro genitori o allo Stato, al Comune, eccetera. Però vollero così tanto pararsi la schiena che partirono per la loro tangente con questa ipotesi, ignorando di nuovo altri segnali, altri indizi, il fatto tipo che non c'era un movente o cose del genere. E così purtroppo fecero anche i media e qua c'è nel senso la responsabilità che abbiamo visto anche casi italiani dove i media sono sempre partiti per la loro tangente a volte distruggendo la reputazione e le vite delle persone. E infatti soprattutto con Denise, perché poi come al solito c'è un accanimento particolare con le donne in casi in generale come questo, chiamandola la gun girl di Vallejo, non so se avete visto il film, c'è una ragazza che in scena ha un rapimento, una violenza anche da parte del suo fidanzato per incastrarlo. Li chiamarono i truffatori, c'era, ci fu davvero un periodo dove li seguivano, cioè ogni volta che uscivano di casa c'erano 4 o 5 persone con le telecamere giornalistiche gli facevano domande e cose del genere. E loro continuarono a mantenere la versione del rapimento, la stessa versione raccontata da uno e dall'altra. La polizia a un certo punto gli propose addirittura un patteggiamento, gli dissero il primo di voi che confessa ha l'immunità, cioè non potrà essere perseguito in tribunale, non avrà, non andrà in prigione, cose del genere, e nonostante la proposta dell'immunità, nessuno dei due cambiò versione. E l'immunità, cioè la proposta di immunità, se sei colpevole, la prendi proprio senza pensarci due volte, continuarono così fino a quando non arrivò un'altra email. E venne inviata un'altra mail, e ne verranno inviate un po', non ve le leggerò tutte, magari qualche stralcio, sempre a quel giornalista di quella testata giornalistica di qui, cioè quello che ha ricevuto l'audio, dove Denise diceva di essere viva. In questa mail c'era scritto Parla nome del gruppo che ha rapito la signora Askins. Siamo un gruppo di ladri professionisti, anche se non è molto che lo facciamo. Siamo più di due, ma meno di otto. Siamo persone di un certo livello, con certificazioni e lauree. La signora Asking è stata rapita da noi. Vi procureremo delle prove inconfutabili a riguardo, ma non ci consegneremo, né riveleremo la nostra identità. Preferiamo rivelare il piano, piuttosto che Denise venga vittimizzata ancora e ancora. Ci sono un sacco di altre cose che verranno dette all'interno di questa mail, e di quelle successive. Diranno ad esempio di aver fatto un errore quella sera, che erano convinti che in realtà con Aaron ci fosse la sua ex ragazza, insomma che volevano rapire la ex ragazza di Aaron e non Denise. Verranno dette delle cose, tante cose, cioè mail proprio lunghissime, piene di dettagli, cosa che purtroppo alla polizia non fece altro che confermare il fatto che ci fosse qualcosa che non andava in questo rapimento. Anche quella mail sembrava estremamente lunga e artefatta. In più, una cosa strana, perché dei rapitori dovrebbero preoccuparsi del fatto che una loro vittima venga in qualche modo accusata di quello che avevano fatto loro? Di certo, dato quello che avevano fatto, non dovevano essere persone con chissà che scrupoli e chissà che etica. Ma qualche dettaglio nelle mail successive che inviarono effettivamente lo diedero. Alcuni dettagli che avrebbero potuto sapere solo i presunti aggressori, dissero esattamente che tipo di vestiti portavano, dissero in che modo erano entrati in casa, ovvero svitando praticamente la serratura della porta. manderanno anche delle foto degli oggetti utilizzati durante l'aggressione, tipo la pila, i nastri e cose del genere. Ma la polizia continuò a non crederci, continuò a pensare che queste mail fossero mandate da mitomani, cioè da persone che avevano sentito il caso alla TV, perché come vi dicevo, a questo punto ci fu una copertura enorme, soprattutto da parte dei media che si accanivano con Denise. Quindi, secondo la polizia, o era un mitomane qualcuno che aveva visto o che faceva dei ragazzi che volevano fare uno scherzo o cose del genere, o gli stessi Denise e Aaron che avevano mandato quella mail per cercare di scagionarsi. Quindi le parole negative nei confronti di Denise da parte della polizia e da parte dei media continuarono, la distrusse, cioè poverina questa ragazza davvero la distrussero, cioè in quei tre mesi che durerà questa cosa la so probabilmente una vita infernale. Tutti parlavano di lei, tutti l'associavano a quel film di cui vi parlavo, tutti la chiamavano truffatrice, insomma non fu per niente un bel periodo per lei. Arrivò un'ennesima mail, sempre delle stesse persone, dove richiedevano alla polizia di fare delle scuse pubbliche a Denise per non aver affrontato il caso in modo corretto e per aver creduto per tutto quel tempo che fosse lei la responsabile. Altrimenti fecero una sorta di minaccia velata, cioè se entro 24 ore il capo della polizia non avesse fatto un comunicato stampa con delle scuse pubbliche, loro avrebbero fatto qualcosa, qualcosa che non specificarono, ma qualcosa ovviamente di negativo. E pochissimo dopo l'invio di questa mail, inviarono un'altra mail con scritto no no scusate scusate siamo un attimo usciti di testa, scherzavamo. E lo so che sembra ridicola come situazione, però è accaduto questo. Il 5 giugno, quindi tre mesi dopo più o meno l'aggressione ad Aaron e Denise, ci fu un'altra aggressione vicino a San Francisco, a qualche chilometro da Vallejo, esattamente uguale a quella di Aaron e Denise. Una persona entrò in casa di una coppia in piena notte, ovviamente stessa, cioè proprio stessa situazione uguale, accese la luce, gli disse di mettersi a panci in giù, legò e imbavagliò prima l'uomo. Nel frattempo la donna riuscì a liberarsi, a scappare, a chiudersi in una stanza col suo telefono e fortunatamente contattò la polizia. Quando questa donna chiaramente si chiuse in bagno per chiamare la polizia, questo rapitore scappò, lasciando lì, lasciandosi dietro, un borsone all'interno del quale troveranno corde, boccette con all'interno una droga, una sorta di anestesia liquida, adesso non sono esperta ovviamente di farmaci, e trovarono anche un telefono, il telefono del presunto rapitore. Ora, il telefono non era intestato a nessuno, quindi ovviamente la prima cosa che controllarono fu se appunto appartenesse a qualcuno, ma non era intestato a un nome, erano di quei tipo telefoni prepagati che si acquistano nei negozi. Di conseguenza, l'altra cosa che fecero fu quella di tracciare il GPS del telefono e gli spostamenti che aveva fatto nelle ore prima. E sembrava effettivamente che questo rapitore avesse una sorta di base, ovvero una villa poco fuori da San Francisco, in un paesino attaccato praticamente a San Francisco. Andarono a ispezionarla e trovarono una casa con la porta sfondata, era evidentemente una casa, o delle vacanze, una casa abbandonata, e dentro c'era un macello assurdo, c'era roba buttata ovunque. E tra le tante cose che trovarono all'interno di questa casa, trovarono un borsone simile a quello insomma che avevano trovato, trovarono dello scotch rosso, trovarono altre boccette di quella droga di cui vi parlavo prima, e per ultimo, nascosto in una stanza all'estremo praticamente rispetto all'ingresso, trovarono un uomo. Quest'uomo venne identificato come Matthew Muller. Era nato e cresciuto a Sacramento, figlio di insegnanti, una famiglia che non gli aveva mai fatto mancare assolutamente niente, erano persone benestanti, persone che lo avevano cresciuto davvero senza fargli mancare niente. Dopo il liceo, Matthew era entrato nei Marines, aveva servito per diversi anni, ottenendo anche delle medaglie al valore, era stato infatti congedato con onore alcuni anni dopo. Aveva poi deciso di studiare all'università, si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza, fece un anno all'estero nel 2001 a Praga, dove conobbe quella che diventerà poi sua moglie. Una volta presa la laurea in giurisprudenza, divenne docente universitario, lavoro che a quanto dico, insomma, le persone che lo conoscevano, lo rendeva molto felice, era una di quelle persone davvero portate per l'insegnamento. Nel 2008, dopo una serie di sintomi, gli era stato diagnosticato un disturbo bipolare, disturbo per il quale ovviamente gli vennero prescritte delle medicine, che però lui non prese mai molto con continuità, perché chiaramente questi farmaci gli diedero tutta una serie di effetti collaterali, tipo insonnia, cose del genere. Quindi di fatto, cioè facendovela breve, un po' le prendeva, un po' per periodi non le prendeva più. Ovviamente queste medicine gli servivano per tenere sotto controllo il suo disturbo, di conseguenza col passare degli anni il suo disturbo peggiorò, iniziò a avere delle vere e proprie crisi psicotiche, vedeva cose che non c'erano, sentiva voci che non c'erano. Il fatto sta che sua moglie lo lasciò, venne licenziato dal lavoro, perché questo disturbo iniziò a diventare invalidante per lui, e nell'arco di pochissimo tempo perse davvero tutto quello che si era costruito nel corso degli anni. Con il passare degli anni verrà indagato per casi similissimi ai casi di Denise e di quella coppia, insomma, che poi fortunatamente è riuscita a chiamare la polizia. Nel 2009 una donna aveva chiamato la polizia dopo che un uomo era entrato in casa sua, aveva cercato di costringerla a bere una boccetta di liquido, e dopo che lei l'aveva bevuta, insomma, aveva iniziato a sentirsi un po' rintontita, e questo uomo aveva tentato di violentarla. Non c'era riuscito, fortunatamente, perché lei era riuscita a respingerlo e a chiamare aiuto. La stessa cosa accadde a un'altra donna il mese dopo in una città vicina. E ancora fatti simili di qualcuno che entrava in casa e cercava di far bere questa sostanza qua alle persone, accadde nel 2012 e nel 2014. Nel 2015, guarda caso, Matthew si era trasferito in una casa a tipo due blocchi di... cioè due isolati di distanza da casa di Aaron e Denise. Erano praticamente vicini di casa. E per questo motivo il collegamento col caso di Denise scattò subito e i media furono velocissimi a fare tutta una serie di servizi, tipo a la ragazza che era stata ingiustamente chiamata da alcuni, cioè io questa cosa non la devo dire. Ho visto dei servizi di... adesso non faccio nomi, metti testata giornalistica X, ok? Che chiamavano Denise nei peggio modi, l'accusavano di essersi inventata da tutto, cose del genere. La stessa testata fece poi un servizio, tipo dicendo a quella che era stata erroneamente chiamata da alcune testate giornalistiche, una truffatrice, una cosa del genere, invece, cioè, ignorando totalmente che facevano... avevano fatto assolutamente parte del problema di... cioè, dei tantissimi media che avevano, insomma, detto le peggio cose di questa ragazza. Matthew Muller si dichiarò colpevole non solo del caso di rapimento di Denise, ma anche dei casi di cui vi ho parlato che a quel punto erano ancora irrisolti. Non dirà mai il motivo per cui l'ha fatto. I 15.000 dollari potevano essere un movente, però era anche l'unica volta che aveva chiesto un riscatto. In più non si seppero mai spiegare di fatto. Vi ricordate che Denise, quando era stata... cioè, si era salvata da sola, già aveva parlato con la polizia, aveva detto di aver sentito quattro voci diverse dagli aggressori. Non sono mai riusciti a capire chi fossero quelle altre persone, se erano persone che avevano in qualche modo partecipato al rapimento, oppure se avessero semplicemente magari assistito alla cosa, magari erano parenti di Matthew, magari erano persone che conoscevano Matthew, non lo sapremo mai, o meglio, per ora non si sa, magari qualcuno parlerà. Il fatto che questi rapimenti... questo rapimento era alta di Denise, perché gli altri un po' meno, però questo rapimento di Denise era risultato così professionale, era molto probabilmente il fatto che questo Matthew era stato per anni un Marines, era di fatto un militare addestrato. In ogni caso, come vi dicevo, Matthew si dichiarerà colpevole di tutto e per le varie cose in tutto verrà condannato a 50 anni di prigione. Denise, di per contro, farà causa alla polizia di Vallejo per non solo non aver, insomma, indagato al tempo del rapimento in modo soddisfacente per salvarla, ma anche per tutto quello che avevano detto contro di lei e da questa causa vincerà due milioni e mezzo di dollari, che sono un bel po' di soldi. Altra cosa positiva per loro, Denise e Aaron alla fine si sono sposati, stanno ancora insieme e hanno tra l'altro scritto un libro che se trovo, ovviamente non penso che ci sia la traduzione italiana, in ogni caso se lo trovo vi metto il link in descrizione, perché è sicuramente, cioè come avrete visto da tutto quello che vi ho raccontato, è sicuramente un caso per cui vale la pena, cioè che sembra davvero tirato fuori da un libro, da un film, quindi sicuramente sarà un libro molto interessante. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo caso assurdo nei commenti, grazie come al solito di essere arrivati fino a questo punto del video, se volete sostenere il canale, iscrivetevi, lasciate un mi piace, un commento, seguitemi sui vari social. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video.